da 75 metri come vedete senza ottica e senza appoggio proverò a colpire una mela qui attaccato proprio al centro del paione proprio sopra le tre linee orizzontali nere proviamoci dai 75 metri questa è la mia balestra 75 metri distanza ovviamente improponibile per quelle che sono le mie modalità di tiro il paione completamente bianco nonostante abbia ecco il sole in faccia mi sembra di intravedere la freccia mi sembra avviciniamoci comunque 75 metri che io copro in non meno di 100 passi andiamo a vedere dove andate a finire ecco perché non la vedevo si era nascosta sotto la mela e ragazzi succede anche questo si era nascosta ecco proprio sotto la mela vabbè questa è la freccia fosse stata una mela più grossa forse l'avevi colpita ma non fa niente dai riproviamoci ottimo tiro comunque attenzione ottimo tiro da 75 metri senza ottica e senza appoggio mancare una mela forse più piccola di 8 9 centimetri sarà mancarla di ecco non passa un dito credo sia un buon risultato grazie a tutti per la visione ragazzi se il video vi è piaciuto mettete vi piace se vi va iscrivetevi al canale e soprattutto commentate ciao ragazzi ciao a tutti una buona giornata grazie